Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense, parleremo ovviamente di coronavirus, ci sono quattro nuovi decessi in regione, ieri vi ricordo erano zero ed era stata una giornata storica da questo punto di vista perché l'inizio contagio non era mai successo però oggi ci sono da registrare nuovi decessi e anche nuovi casi sia in regione che a Ferrara. Ma dobbiamo aprire questa edizione con la notizia di Filippo Parisini che si dimette dalla carica di presidente e amministratore delegato della società di Ferrara Fiere. La decisione è stata appresa dopo la notizia di un suo convolgimento nelle indagini svolte dalla procura di Ferrara per un procedimento penale su presunte violazioni di legge ricollegabili all'ufficio da lui presieduto. Ribadisco la mia totale estraneità ai fatti contestati, dice Parisini, si tratta di accuse infondate lanciate da un soggetto ben noto alle croniche giudiziarie e la cui attendibilità e credibilità sono state già in passato ampiamente sconfessate, spiega l'ex presidente, l'oramai ex presidente di Ferrara Fiere. Ma sentiamo tutto nel servizio. Ho preso questa scelta volontariamente a tutela della mia persona e quale atto di responsabilità nell'interesse dell'azienda che dal 2014 so di avere guidato con passione, onestà e senza risparmiarmi anche nei momenti più difficili e complicati. Filippo Parisini ha presentato le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica di presidente e amministratore delegato di Ferrara Fiere. Una decisione presa dopo la notizia di un coinvolgimento dello stesso Parisini nelle indagini svolte dalla procura di Ferrara in merito ad un procedimento penale che verte su presunte violazioni di legge ricollegabili all'ufficio da lui presieduto. Mi amareggia che il mio apporto a una realtà come la fiera strategica per Ferrara debba interrompersi qui e in queste circostanze spiega Parisini, ribadisco la mia totale stranietà e fatti contestati che, evidenzio e sottolineo allo Stato, sono il frutto di mere relazioni e accuse infondate, totalmente prive di riscontri lanciate da un soggetto ben noto alle cronache giudiziarie e la cui attendibilità e credibilità, continua Parisini, sono state già in passato ampiamente sconfessate e minate. Ritengo comunque opportuno che gli accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria facciano il loro corso e in un simile contesto, per il senso del dovere e della responsabilità che ha sempre contraddistinto il mio operato, ho deciso di farmi da parte, conclude Parisini. Le dimissioni sono state comunicate al Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio Sindacale di Ferrara Fiere Congressi, al Direttore Generale di Bologna Fiere S.P.A. come rappresentante del Capitale di Bologna Fiere e al Sindaco di Ferrara. Filippo Parisini rivendica di aver caratterizzato la gestione di quattro anni di presidenza con un significativo segno più. In questo periodo, al netto della chiusura forzata da coronavirus, i ricavi sono aumentati, spiega Parisini, e in questo percorso ringrazio uno staff straordinario che ha lavorato ogni giorno a mio fianco con grande professionalità, oltre ad un CDA che ringrazio per la fiducia che mi ha sempre accordato. In questi anni, continua Parisini, è stato siglato con l'Università di Ferrara, un inedito sodalizio che ha letto i padiglioni di Via della Fiera a sede del Polo didattico di biotecnologie per oltre 2.000 matricole. Oltre a consolidare alcuni degli appuntamenti più attestati da Remtec al Salone del Restauro, ne sono stati creati di nuovi, come ad esempio l'appuntamento biennale con Futur Pera, giunto lo scorso inverno alla terza edizione, che ha aggregato aziende e buyer di cinque continenti. Prima dell'emergenza coronavirus, Ferrara Fiere si apprestava a varare silogi, il primo salone europeo dedicato all'economia del mare, nonché un marchio di proprietà del valore di 300.000 euro. Mentre tra le manifestazioni più popolari, che hanno segnato la conduzione di Parisini della controllata di Bologna Fiere, c'è il Ferrara Balloons Festival, purtroppo tra gli eventi sui quali si è abbattuto il Covid-19. Arrestato il titolare del circolo privato a Fondoreno, vicino a Ferrara, che in casa aveva più di mezzo etto di marijuana. Il rimattina gli uomini della squadra mobile di Ferrara, insieme a due cani della Polizia Municipale, hanno perquisito la casa del 38enne e poi arrestato. E adesso parliamo dell'emergenza coronavirus. Come abbiamo detto, purtroppo sono quattro i nuovi decessi in regione tra ieri e oggi. Ieri, lo ricordiamo, era il primo giorno senza decessi in Emilia Romagna. Sono 33 i nuovi casi positivi, sempre in regione, di cui 21 sono senza sintomi e sono stati individuati grazie agli screening regionali. Tre di questi sono stati registrati, di questi casi nuovi, sono stati registrati sul territorio ferrarese e sono 1.500 i casi a Ferrara e Provincia da inizio emergenza. Quindi rimangono molto bassi i numeri del contagio in regione e nel ferrarese, seppur questi numeri sono in leggerissimo aumento rispetto ai giorni scorsi. E mentre l'azienda USL di Ferrara è al lavoro per recuperare le prestazioni sospese causa emergenza covid, abbiamo chiesto al direttore generale Claudio Vagnini se è servita l'esperienza di questi mesi per la nuova riorganizzazione sanitaria. Sentiamo la sua risposta in questo servizio. Dottor Vagnini, che cosa ha insegnato l'epidemia alla sanità ferrarese, in particolare alla sanità territoriale, in questi mesi che naturalmente può valere come lezione per il futuro, per la futura organizzazione. Ci ha insegnato che la cosa principale che dobbiamo fare è quella di lavorare insieme con tutti gli stakeholders che possono essere presenti sul territorio. Quindi il lavoro tra strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, tra le strutture sanitarie e le strutture sociali, quindi con le amministrazioni comunali in testa. Devo dire che questo fa, cambia, cambia la prospettiva. Non siamo stati sempre all'altezza e non abbiamo avuto la velocità di risposta che chiunque di noi si aspetterebbe da un sistema così rodato, però è pur vero che nessuno sapeva esattamente cosa aveva di fronte. Lei come vede la sanità del futuro qui a Ferrara naturalmente in modo particolare? Io vedo una sanità che grazie a certe prese di posizione politiche di questi ultimi mesi finalmente riconosce al territorio il valore che ha e che mi sono trovato a urlare ai 4-20 negli ultimi anni perché purtroppo molto spesso anche gli amministratori locali vedono nell'assistenza ospedaliera il punto di riferimento unico e indispensabile. È importante sicuramente, però l'assistenza territoriale soprattutto per delle persone fragili, per le persone anziane, per le persone sole, è quella che fa la differenza, è quella che impedirà alla stragrande maggioranza dei nostri anziani di dover andare in ospedale un giorno sì, un giorno no. Noi dobbiamo tenere a casa la maggior parte delle persone, dobbiamo costruire delle nuove strutture intermedie che non siano ospedaliere ma che siano strutture davvero di assistenza con carattere sanitario e con carattere sociale. E l'intervista integrale al direttore generale dell'azienda USL di Ferrara andrà in onda questa sera su Telestense alle ore 22 nell'appuntamento a Tu per Tu condotto da Daglia Bighinati. Ma come ha funzionato e come funziona l'assistenza domiciliare sia per i malati cronici sia per i malati Covid-19? Lo abbiamo chiesto a Nicoletta Natalini che è direttore sanitario dell'azienda USL di Ferrara. Sentiamo. Allora noi non abbiamo mai sospeso l'attività di assistenza domiciliare ai pazienti nemmeno durante la fase Covid. Abbiamo ovviamente preso molte più precauzioni per i nostri operatori che entravano in abitazioni non sapendo come potessero trovare nei pazienti e nei familiari. È capitato in alcuni casi che andassero a casa di pazienti che erano notoriamente Covid perché avevamo già avuto la positività ma sapendolo andavano con tutti i dispositivi e continuavano a derogare le stesse prestazioni che erogavano in precedenza. Adesso questo tipo di attività però si coordina e si incastra con quello delle USCA. USCA è un brutto termine ma significa unità di continuità assistenziale e territoriali. Sono state inventate diciamo come tipo di assistenza sul territorio e a domicilio specificamente per i pazienti Covid o comunque per i pazienti sospetti. sono delle equip che noi abbiamo attivato, sono cinque sul nostro territorio, una nel distretto ovest, due nel distretto centro-nord e due nel distretto sud-est, composte da un medico e un infermiere. Vanno a domicilio su richiesta dei medici di medicina generale quando il medico ha informazione di un suo paziente con dei sintomi che potrebbero essere indicativi di Covid. L'equip va, fa la visita, può fare prescrizioni di farmaci o di altri accertamenti e poi riferisce al medico di base quello che ha rilevato. Abbiamo addestrato questa equip anche all'esecuzione dei tamponi per la ricerca di Covid proprio per evitare di dover segnalare il caso al Dipartimento di Sanità Pubblica e quindi dover mandare un'altra equip. Inoltre vanno a casa dei pazienti dimessi dall'ospedale che erano Covid e magari sono ancora positivi in fase di convalescenza ma già guariti. In più sono risultate utilissime perché hanno collaborato nella gestione dei casi di positività dentro le CRA, in supporto ai medici delle CRA, al personale infermieristico delle CRA, soprattutto il sabato, la domenica, la sera perché queste equip lavorano anche 12 ore al giorno, 7 giorni su 7 e quindi hanno supportato in modo importante l'assistenza sanitaria di tutti i pazienti Covid presenti sul territorio, quindi al di fuori dell'ospedale in tutti i setting possibili. E proprio questi temi saranno al centro delle nuove puntate del filo di Arianna, trasmissione realizzata in collaborazione con l'azienda sanitaria territoriale di Ferrara e il servizio psichiatrico ospedaliero integrato dell'ospedale Delta dopo l'emergenza Covid è pronto a ripartire con la sua funzione originaria dedicata ai pazienti psichiatrici. Il servizio infatti nel corso di questi mesi era diventato temporaneamente una residenza Covid per pazienti positivi al virus clinicamente guariti che però non potevano rientrare nel proprio domicilio. Nell'ultimo periodo con la riduzione importante dei pazienti Covid positivi la direzione aziendale ha dato così disposizione che già nei primi giorni di giugno il servizio psichiatrico dell'ospedale di Lago Santo tornasse alla sua funzione originaria. E domenica sarà la giornata mondiale del donatore di sangue a Ferrara in città ci si sta preparando con un evento tra la sede dell'Avis e Parco Pareschi e sarà la prima iniziativa in città dopo il lockdown a causa coronavirus. Sentiamo. Il primo evento a Ferrara dopo il lockdown da Covid sarà quello di domenica prossima il 14 giugno e saranno i festeggiamenti della giornata mondiale del donatore di sangue che si terranno prima nella sede Avis di Corso Giovecca per poi trasferirsi al Parco Pareschi. L'Avis ferrarese vuole dare così un messaggio alla città e al territorio estense un messaggio di solidarietà come quello dato dai ferraresi durante la fase più difficile dell'emergenza coronavirus. Nei mesi di marzo e aprile si sono rivolte alle nostre unità di raccolta oltre 900 persone che non avevano mai donato il sangue e che hanno dato la loro disponibilità a donarlo e che ovviamente nelle settimane successive sono state chiamate per fare questo. Questo è un segnale importante per me perché significa che la nostra popolazione quando vede che c'è necessità si mette subito in gioco e interviene. Ovviamente con tutte le difficoltà del caso perché in quel momento noi abbiamo dovuto cercare di mantenere il distanziamento sociale, tutto quello che ne conseguiva, con estrema difficoltà. Quindi un applauso, un ringraziamento al nostro personale e soprattutto al nostro personale di volontariato che è intervenuto in quell'occasione. Avis in prima linea anche negli screening regionali con i test serologici tra i donatori che ne faranno richiesta. Si sta organizzando affinché nelle prossime settimane i donatori che vogliano esaminare il proprio sangue per capire se ci sono gli anticorpi lo possono fare. Noi ci siamo messi immediatamente a disposizione rispetto a questo tipo di richiesta dell'assessorato regionale perché ovviamente dobbiamo cercare di rispondere al meglio alle esigenze del nostro sistema sanitario regionale. E quindi nelle prossime settimane i donatori che vorranno effettuare un esame per individuare gli anticorpi al Covid lo potranno fare tranquillamente nel momento in cui vengono a donare. Poi ovviamente laddove fossero positivi verranno presi in carico immediatamente dal servizio sanitario regionale perché ovviamente a quel punto il percorso deve essere accompagnato dal servizio di igiene pubblica e dal servizio sanitario regionale. La giornata mondiale del donatore di sangue che si celebrerà domenica è un appuntamento molto sentito dall'Avis Ferrarese e ogni anno tocca un comune estense. Quest'anno si festeggerà a Ferrara. Questa giornata, il 4 giugno, è la giornata mondiale dei donatori di sangue che viene festeggiata in tutto il mondo e in Italia era candidata l'Italia ad essere la nazione che ospitava questo evento. Però sappiamo bene cosa è successo con questa pandemia, ha fatto rimandare tutti questi avvenimenti quest'altro anno ancora l'Italia a ricandidarsi. Però noi non possiamo non festeggiare lo stesso quest'anno anche perché ci sentiamo moralmente veramente verso queste donatrici e donatori ferraresi e non solo ferraresi. Lo prendiamo tutti quelli dell'Italia, prendiamo tutti quelli del mondo che li ricordiamo in modo di ringraziarli. Ringraziare tutto quello che hanno fatto non solo in questo periodo ma anche dappertutto, sempre e continuamente. Domenica mattina alle 9.30 inaugureremo queste due panchine, una rossa che è il sangue e una gialla che è il plasma. E rimarranno qui nel cortile davanti alla nostra sede a testimoniare quello che i donatori e le donatrici hanno fatto sempre e continuamente ed è un segnale importante. Poi ci sposteremo con una sfilatina qui al Parco Pareschi dove sarà celebrata la messa dal vicario generale Monsignor Manservigi. E naturalmente che cosa c'è di novità? La prima volta che insieme a noi ci saranno anche le ragazze del Palio. Cioè ogni contrada vuole esserci insieme a noi. Credo che sia anche questo un momento significativo di rappresentanza diciamo così del Palio perché voglio dire anche loro hanno avuto purtroppo avere questo arresto qua con il coronavirus. Però sono insieme a noi e ci sarà anche la prima uscita della banda di Cona una rappresentanza che ci accompagnerà in fondo al Parco Pareschi. Naturalmente al Parco ci si viene con la mascherina. Questo lo voglio dire è con le distanze che noi cercheremo di mantenere con i nostri volontari e si può assistere tranquillamente perché il Parco è molto grande. Perciò sarà un momento di ringraziamento soprattutto ma anche e soprattutto un modo nuovo di riprendere la vita dopo questa tempesta che abbiamo avuto con il coronavirus. E ora parliamo di cultura. Proprio nei giorni scorsi l'assessore Marco Gulinelli intervenendo ai lavori congiunti delle commissioni 1 e 2 del comune di Ferrara ha fatto un primo bilancio delle mostre aperte a Ferrara dopo il lockdown. Nel suo intervento ha parlato anche della mostra di Benxi che si tiene a Palazzo dei Diamanti fino al prossimo 27 settembre e che potrebbe registrare anche delle novità. Sentiamone un passaggio. Il Palazzo dei Diamanti è aperto e il segno tangibile della ripartenza della città credo che dovesse insomma era doveroso che partisse dagli elementi simbolo e quindi Palazzo dei Diamanti bene Palazzo Schifanoia che anche lì abbiamo dovuto declinare le varie linee guida e non è stato comunque semplice. A Palazzo dei Diamanti siamo a circa 4.500 visitatori in una settimana che è un numero importante e questo è un numero che fa ben sperare per la ripartenza perché ovviamente questo è traino poi anche a tutta la cultura diffusa che andremo ovviamente ad analizzare caso per caso. Per quanto riguarda Palazzo Schifanoia siamo al 50% del massimo consentito per cui è un risultato assolutamente anche questo incoraggiante. Castello Estense ovviamente lì avevamo delle interferenze molto forti, anche lì siamo a un percentuale di visitatori massimo consentiti di circa il 50%. Il Castello Estense prorogherà la mostra di Previati fino al 27 di dicembre. Stiamo lavorando a un'altra mostra di Gian Domenico Crema per il primo semestre del 2021. Stiamo lavorando e anche qui vorrei darvi delle notizie già risolutive ma stiamo lavorando per cercare comunque un contenitore che possa sostituire anche Palazzo dei Diamanti nel momento della chiusura che per quanto ne sappia io dovrebbe chiudere il 27 di settembre e quindi andare a riaprire ovviamente nel 2021 su cui stiamo lavorando già con una mostra importantissima per l'apertura dei Diamanti. Ci saranno degli eventi speciali all'interno della mostra di Banksy con aperture serali. Sto lavorando per riuscire a portare due opere identitarie di Banksy che tra l'altro una che non si è mai vista in nessun museo d'Europa per cercare ovviamente di andare a incrociare eventi nell'evento. Tutto questo ovviamente è costato il sacrificio. Questa sera su Telestense alle ore 20 c'è bonifica oggi mentre alle 21.30 spazio a Campagna Amica News con interessanti contenuti come corsi di formazione per far ripartire le aziende dopo l'emergenza coronavirus e poi alle 22.20 la riprogrammazione delle prestazioni sanitarie è al centro dell'intervista Claudio Vagnini direttore generale dell'azienda USL di Ferrara quindi vi ricordo ore 22.20 l'appuntamento a tu per tu condotto da Daglia Bighinati mentre sempre questa sera alle 23.30 torna Delta del Po viaggio nella biosfera argomento della puntata le antiche dune fossili di Massensatica. E con questo chiudiamo questa edizione del telegiornale. Grazie per l'attenzione e appuntamento alle prossime edizioni del Tg.